Musica Ancora in riunione nella sede della Lega, Reana, Matteo Salvini non ha detto l'ultima parola sulla candidatura di Tondo. I problemi del mondo agricolo tiene ancora a banco la protesta, i trattori tornano in piazza, manifestazione a Reana in occasione dell'incontro con Salvini. In occasione dell'inaugurazione del polo intermodale di Ronchi, il presidente dello Scalo annuncia un milione di passeggeri nel 2019. Si fa presto a parlare di papà in occasione della festa, abbiamo ascoltato chi lamenta una situazione sempre più insostenibile, i padri separati. Dall'esaltazione in Mugugni nel giro di poche settimane, l'Udinese si interroga sulla sua identità. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Udinese TV, in primo piano la politica, ma parleremo anche di tanto altro in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Valentina. Ma prima di dare la linea allo sport, vedo già collegato Davide Zanirato, da Reana del Royale, dove alle 5 si sta tenendo un importante incontro all'interno della sede dirigenziale della Lega, dalla quale dovrebbe appena essere uscito proprio Matteo Salvini. A te Davide. Sì Valentina, buonasera, buonasera. Matteo Salvini è salito in macchina da due minuti e ha lasciato il dubbio a tutti. Ci vediamo là, ci vediamo là, queste le sue uniche parole rilasciate alla termine di questa lunghissima riunione all'interno della sede del carroccio qui a Reana del Royale. Salvini era arrivato attorno alle 17 assieme appunto al segretario regionale Fedriga. Le sue prime battute al microfono che poi vi proporremo avevano lasciato intendere insomma che saranno mantenuti i patti di coalizione, poi sul nome specifico di Tondo Presidente ha detto sono qui per ascoltare. Poi appunto dopo oltre un'ora e mezza di riunione con i militanti Salvini non ha sciolto ancora le riserve. Allora noi tra poco ci trasferiremo subito al Palamostre dove è atteso Salvini dai militanti per cercarne di capire di più e quindi vi richiederemo la linea non appena saremo davanti al Palamostre. A te Valentina. Grazie David. Allora questi gli aggiornamenti dalla riunione non è ancora uscito il nome del candidato del centrodestra. Abbiamo voluto dare subito spazio alla diretta ma torneremo a parlare di politica e ci ricollegheremo di nuovo con David entro la fine del notiziario per vedere se Salvini darà informazioni in merito. Adesso non torniamo alla scaletta tradizionale, torniamo allo sport come di consueto in apertura del nostro notiziario. La linea passa Maurizio Ferrari. Buonasera Maurizio. Buonasera Valentina e Nicola. Notiziario dello sport che parte invece con quelle che sono le notizie che riguardano l'Udinese. Un Udinese che si interroga dopo la quinta sconfitta consecutiva. C'è la volontà di cambiare marcia, di cambiare passo. Ci racconta tutto nel primo servizio di questa sera. A ormai quasi 48 ore di distanza la delusione è ancora tanta per la quinta sconfitta di fila di questo campionato. Una striscia negativa è guagliata solo due volte nella storia. Nella stagione 61-62 e a fine 2008 con Pasquale Marino in panchina. Una stagione allora conclusa con il settimo posto che visto questo ritmo sta purtroppo diventando una chimera per l'Udinese di Oddo. Che deve concentrarsi, lavorare e guardarsi più le spalle che davanti. Il rammarico è tanto perché a fine 2017 il settimo posto invece sembrava un'opzione più che concreta. La realtà dei fatti ha detto altro, con due sconfitte in scontri diretti, due con le prime della classe e lo scivolone inatteso contro una squadra da rendimento mediocre quest'anno come il Sassuolo dato testimoniato dall'essere il peggior attacco della Serie A. Ma cosa è andato e sta andando storto? Domanda pressante, sovrastata da una ancora più frequente. Qual è la vera Udinese? Quella che ha spazzato via tutti i timori con cinque vittorie di fila in campionato contro squadre di tutti i tipi, dal Benevento all'Inter? O quella che non riesce più a graffiare, che si arrende alle difficoltà e che segna poco subendo regolarmente? Difficile dirlo, ma la risposta la devono dare ora i ragazzi sul campo, rialzando la testa in un momento così delicato della stagione. Perché qui e là le squadre della zona rossa stanno mettendo mattoncini di speranza per la salvezza. Proprio quell'obiettivo minimo che inseguono i friulani, così vicino ma che sembra ogni giornata che passa, tremendamente lontano. Per via del morale che scende, per via dei risultati negativi che si susseguono. Ritrovarsi quindi è fondamentale, anche se all'orizzonte il cammino è impervio e la sosta per le nazionali di certo non aiuta. Però bisogna trovare la scintilla per riaccendere il motore, magari con un lasagna in più e riprendersi le certezze faticosamente costruite nel mese di dicembre. Perché quelle cinque vittorie di fila non sono state soltanto una pura casualità. Un periodo difficile, diversi giocatori convocati in nazionale, giunta oggi anche la chiamata definitiva per Svante Ingersson che dunque diventa il decimo giocatore aggregato ai nazionali. Chi invece doveva prendere parte di una competizione, quella della China Cup, è Jacopo Biancto. Andiamo sul sito ufficiale per la nota, proprio pubblicata questo pomeriggio, visto che l'udinese ha informato che a causa di un allieve trauma contusivo riportato al vasto laterale della coscia destra durante la sfida di domenica scorsa contro, il Sassuolo non prenderà parte Cuba Biancto alla China Cup in accordo con lo staff medico della Nazionale Cieca farà rientro a Udine nella giornata di martedì per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dello staff medico della società. Quindi questa è la notizia legata a Jacopo Biancto. Per quanto riguarda invece il programma della settimana, squadra che tornerà al lavoro da domani ed è stato ufficializzato anche un test per la giornata di venerdì contro la formazione del Domjale, massima serie del campionato sloveno, gara che tra l'altro era già stata disputata nel corso della stagione, finita 1-1 con rete di De Polo. Ovviamente ve la trasmetteremo in diretta a calcio d'inizio alle ore 15 e 30. Nel prossimo servizio invece ci focalizziamo sull'Under-19 e il nostro Renzo Pausa ha seguito a Lignano quello che sarà il momento della selezione giovanile azzurra. Conto alla rovescia per le qualificazioni agli europei Under-19 che questa settimana vedranno il Friuli Venezia Giulia ospitare le partite del gruppo 3, quello della nostra nazionale. L'Undici del Cittini Colato si sta allenando sui campi della nostra regione per prepararsi al meglio a questo appuntamento. Stiamo trovando bene, le persone sono molto accoglienti, molto disponibili, le impianti sono di buon livello, quindi siamo molto contenti di aver scelto questa location. Tutto l'anno che ci prepariamo al meglio per arrivare a questo tipo di competizioni che ci impegneranno molto di più rispetto alle scorse. Ovviamente è un girone duro, ne passerà solo una, perciò non sarà una competizione facile, ma noi ci siamo allenati molto e faremo del nostro meglio per raggiungere questo traguardo. Al Tegel di Lignano le prime due apparizioni degli azzurrini che affronteranno Grecia e Polonia. Martedì 27 il gran finale contro la Repubblica Ceca alla Dacia Arena, in un incontro che potrebbe essere decisivo per accedere alla fase finale di giugno in Finlandia. È uno stadio bellissimo e è sempre bello giocare in quei stadi, quindi sarò, come ero felice la prima volta, lo sarò anche il 27 quando giochiamo l'ultima partita del nostro girone. La Dacia Arena è uno stadio di Serie A, di sicuro è emozionante giocare in uno stadio del genere, giocano grandi campioni, quindi per noi sarà un'emozione unica. Risale al 2003 l'unico titolo europeo per l'Italia, con in campo Giampaolo Pazzini, Giorgio Chiellini e Alberto Aquilani. Gli azzurrini di oggi sognano di diventare anche loro campioni per risollevare le sorti della nazionale maggiore. Non è detto che chi fa la nazionale arrivi a fare il calciatore, però diciamo che è comunque un punto di forza e se tu continuerai a fare bene questo darà dei risultati. Noi speriamo di dare anche un po' di ottimismo che serve per fare le cose fatte per il bene. Credo che ci siano dei giocatori importanti, che ci siano dei giovani che assicureranno sicuramente un futuro importante anche la nazionale italiana di A. E dunque in attesa di vedere i giovani campioni alla Dacia Arena, questo primo incastro in Friuli, in quella di Lignano, tra l'altro con Brignola andato a segno proprio nell'ultimo turno di Serie A, uno dei giovani più interessanti da monitorare. Tutto per la prima parte dello sport, ci ritroviamo tra poco con altri temi sempre locali come GSI e Pordenone. Grazie Maurizio. Allora in apertura, come avete sentito prima, l'incontro di Salvini questo pomeriggio, un incontro che si è tenuto nella sede della Lega Arena del Royale con i dirigenti che volevano cercare di far cambiare idea al segretario nazionale sul candidato del centrodestra in regione che per adesso sarebbe Renzo Tondo anche se c'è stata questa mobilitazione da parte della Lega. Salvini non ha voluto sciogliere le sue riserve o comunque il suo parere all'uscita, non ha voluto rilasciare dichiarazioni all'uscita dall'incontro con la Lega, con i suoi dirigenti, come ci ha detto David Zanirato, però ha parlato brevemente prima di entrare. Noi abbiamo registrato la sua dichiarazione, vediamo. Con Forza Italia per la regione. Ah certo, siamo qua per mantenere gli impegni, per vincere in regione e per ascoltare i nostri militanti che sono il nostro cuore ovviamente. Federica se lo porta a Roma. Max è una risorsa per il Friuli e per il paese, quindi vediamo come impiegarlo al meglio, sicuramente a Roma può fare tanto. Oggi cosa dirà ai leghisti del Friuli Venezia Giulia? Ma innanzitutto ringrazio per un risultato storico e eclatante e poi vediamo di costruire le basi per altri successi. Quindi il ringraziamento è d'obbligo perché non c'è niente di scontato, è stato un risultato storico e inaspettato per gli altri, non per noi. Ci sono poi lezioni amministrative da preparare, c'è la copiata Seracchiari-Bolzonello da cancellare come un pessimo ricordo e c'è una regione da far ripartire. Qualcuno ha detto che avrete avuto anche la tentazione di correre da soli. Noi manteniamo gli impegni, noi facciamo parte di una squadra, non vince mai uno da solo, vince una squadra e quindi se facciamo parte di questa squadra vi devono fare in modo che questa squadra vinca anche in Friuli Venezia Giulia. Tondo per Presidente. Sono qua per ascoltare. Ecco questa insomma la chiusura poco chiara di Matteo Salvini sul nome di Renzo Tondo anche se ha voluto anche precisare manteniamo gli impegni, siamo leali con la coalizione. E a proposito di coalizioni diamo uno sguardo all'altra coalizione. Ecco vediamo se il proposito di Matteo Salvini che è quello di mandare a casa Seracchiari-Bolzonello si può realizzare. Perché? Perché il PD lavora nella direzione opposta che è quella di riuscire a convincere anche il patto per l'autonomia. Perché come ci dice l'Ansa Salvatore Spitaleri che è il neosegretario del PD in regione in sostituzione della Triestina Antonella Grima chiesto un incontro a Sergio Cecotti che sappiamo essere il candidato in pectore del patto per l'autonomia alle regionali per discutere appunto della questione Piazza Unità d'Italia. Che cosa dice Spitaleri? Che quando si ha a cuore la specialità è necessario unire le forze con chi difende e la valorizza. Questo è il messaggio per Cecotti. Un centrodestra che si inchina a Roma non mi pare sia fra questi chi osa il politico del PD. Questa è la chiusura diciamo con quello che è rispetto a quello che è il nuovo accordo che si prova ad ottenere dall'altro schieramento. Parliamo invece di quello che è successo sempre oggi a Reana. Torniamo a Reana del Royale perché ad attendere l'arrivo del segretario della Lega anche una ventina di agricoltori e allevatori friulani decisi a sostenere il nome di Massimiliano Fedriga come candidato e comunque decisi a richiedere maggiore attenzione per il settore. Nato Zampa della Cospalat. Oggi avete sentito dell'arrivo di Salvini. Vi siete presentati qui con i vostri trattori per chiedere che cosa? Per chiedere un cambio di passo, ci aspettiamo un rinnovamento, ci aspettiamo che la politica si riappropri del proprio ruolo affinché si possa continuare a fare questo lavoro perché non ne possiamo più. Pietro Castenetti, agricoltore, allevatore qui ad aspettare Salvini per chiedere che cosa? Per vedere di sistemare un po' l'agricoltura che è uno stato pietoso e se non si fa qualcosa chiudiamo tutti. Fino adesso in agricoltura non è stato fatto niente. Bisogna tanto i regolamenti di lasciarci lavorare prima di tutto, che non si può andare avanti, che ognuno interpreta come vuole tutti i regolamenti per la produzione. E dopo che ci si liberi di questo impegno, no? Troppo burocrazia. Troppo burocrazia. Troppo burocrazia che non serve. È stato inaugurato il polo intermodale di Ronchi, un'opera da 17 milioni di euro che fa delle Trieste Airport, l'unico scalo in Italia direttamente collegato a una stazione ferroviaria di alta velocità. Il prossimo passo sarà l'aumento dei voli con l'obiettivo di raggiungere un milione di passeggeri nel 2019. Con l'arrivo del primo frecciarossa è stato ufficialmente inaugurato il polo intermodale di Ronchi. Il nuovo hub di trasporto in Friuli Venezia Giulia, opera da oltre 17 milioni di euro, ha reso il Trieste Airport l'unico scalo in Italia collegato all'alta velocità, con una stazione dei treni dove ogni giorno fermeranno 70 convogli. Oltre mille posti autogarantiti, 16 li stanno in linea per le corriere, con una superficie pedonale di oltre 2.800 metri quadrati. E proprio in treno è arrivata la governatrice Deborah Serracchiani, che in occasione della cerimonia di inaugurazione ha definito l'opera un valore aggiunto per il tessuto socio-economico del Friuli Venezia Giulia, con l'aeroporto che si prepara un grande rilancio dopo essere stata una voce in perdita per il bilancio della regione. Il prossimo passo sarà l'accrescimento del numero di voli, come ha annunciato il presidente del Trieste Airport, Antonio Marano. Primo aeroporto collegato direttamente con l'alta velocità, adesso abbiamo anche la possibilità di usufruire degli altri mezzi di trasporto, quindi tutto concentrato in un unico posto. Anche gli autobus a lunga distanza hanno segnalato gli operatori del grande interesse a operare dal polo, e quindi direi siamo molto soddisfatti, è un gran successo. La gamma di voli aumenterà ancora? Il passaggio successivo abbiamo dovuto fare un turnaround, una ristrutturazione dell'azienda, creare le premesse perché ci siano poi degli investitori e degli operatori industriali in grado di ampliare la forza commerciale del nostro scalo, quindi questo verrà direi con l'ingresso dei nuovi soci. La costruzione del polo intermodale ha avuto anche un'importante ricaduta sul territorio. Dal punto di vista occupazionale, per 13 mesi una trentina di ditte locali sono state impegnate notte e giorno per portare a termine i lavori. Ce n'ha parlato il direttore Ermanno Simonati. 13 mesi abbondanti, ma giusto così, abbiamo rispettato i tempi, il lavoro è stato intenso soprattutto negli ultimi sei mesi, diciamo la verità, da quando abbiamo incominciato le strutture in acciaio della passerella pedonale. Siamo arrivati giusti, nonostante il tempo cattivo, nonostante la pioggia, nonostante la neve di oggi e il freddo delle settimane scorse è andata bene. Quante imprese e quanti lavoratori hanno lavorato? Diciamo che negli ultimi periodi, mediamente, avevamo tra le 80 e le 100 persone in cantiere. Le imprese sono state anche molte, le tre imprese principali sono state la ICI Coop, di Ronchi delle Gionari, la Celsa e la Schindler, che erano i nati. Poi tutta una serie di subappaltatori per la parte impiantistica e per le opere civili in generale, insomma, ma tante, oserei dire una trentina di imprese in generale. Manca ancora qualche rifinitura? Mancano piccole cose, piccole rifiniture, qualche ritocco di pittura, qualche fondo, ma insomma sono poche cose. L'opera è funzionale e funzionante in tutte le sue parti. Una grande soddisfazione per voi? Sì, una grande soddisfazione, devo dire la verità. Adesso voltiamo pagina e passiamo alla cronaca con una notizia che arriva dal web, Nicola. Sì, c'è un fatto di cronaca che coinvolge la provincia di Pornelano, nello specifico Porcia, perché ieri un bambino di un anno e mezzo di età ha riportato dalle gravi ustioni sul 14% della superficie corporea dopo essere stato investito da acqua bollente. Il piccolo è stato portato in ambulanza al campo sportivo di Maniagola, dove è stato recuperato dall'elicottero dell'elisoccorso e trasportato all'ospedale di Verona, dove c'è un reparto specializzato per grandi ustionati. Sono in corso indagini per capire quali siano state le cause di questo episodio. E sempre riguardo alla cronaca, oggi maltempo e disagi sulle nostre strade, in particolare sull'autostrada, anche a causa delle nevicate. Vediamo cosa è successo. A due giorni dall'arrivo della primavera in Friuli, Venezia e Giulia, l'inverno dal suo ultimo colpo di coda con nevicate e temperature in picchiata. Le precipitazioni nevose di questa mattina hanno messo a dura prova anche la viabilità in A4. A complicare la situazione è anche una serie di incidenti che hanno contribuito a congestionare il traffico, già fortemente rallentato a causa delle fitte nevicate. In mattinata fra Latisana e Portoguaro, in direzione Venezia, si è verificato un tamponamento 8 a 3 mezzi pesanti, che ha richiesto la chiusura del tratto autostradale incidentato e dello svincolo in entrata Latisana a direzione Venezia. Nel pomeriggio un altro scontro è avvenuto lungo il raccordo autostradale 13 A4 Trieste, con il traffico deviato in uscita allo svincolo di Prosecco. Lunghe code si sono registrate nel pomeriggio anche in A4, fra Re di Puglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, e in A23 all'altezza del nodo di Palmanova. Per quanto riguarda le operazioni di viabilità invernale, da ieri sera il personale di autovie è impegnato a trattare l'asfalto con i cloruri, per evitare che lo strato di neve si ghiacci. Nel frattempo però continua anche il cantiere in A4, il tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, sarà chiuso domani a partire dalle 22 fino alle 5 del mattino di mercoledì e dalle 22 di mercoledì fino alle 5 del mattino di giovedì. Chiusa anche l'entrata a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Sempre con la cronaca, torniamo sul web. Sì, torniamo a un po' di giorni fa, quando vennero trovati degli adesivi raffiguranti l'ex sindaco di Udine Furio Onsel con una divisa da deportato e diciamo la dicitura sindaco di Auschwitz. Oggi l'ex primo cittadino del nostro capoluogo si è presentato negli uffici della DIGOS per sporgere querela. Che cosa ha detto Onsel? Ritenevo si dovesse fare tutto il possibile per impedire che episodi e strumentalizzazioni come quella potessero ripetersi anche per individuare i responsabili. Detto del sindaco Onsel passiamo a un altro argomento, passiamo a Legambiente che pubblica un intervento sul suo sito legambientefwg.it sulla sezione dedicata a Udine e che cosa succede? Che l'associazione si interroga su quale sia lo stato reale dei depuratori presenti in provincia di Udine? È una domanda più che legittima, visto, nonostante le condizioni meteo non lo facciano presupporre, l'arrivo della bella stagione. Ovviamente ci si interroga su che condizioni vivano questi macchinari per quello che riguarda soprattutto lo sversamento delle acque in Adriatico. Tutto questo intervento sulla vicenda si chiude con un interrogativo. dice che in conclusione il circolo di Legambiente Udine si rivolge agli amministratori, si rivolge agli enti preposti al fine di dare una risposta concreta e efficace ai cittadini della provincia di Udine che continuamente vogliono avere chiarimenti da questo punto di vista. Grazie Nicola. Allora adesso dovremmo essere pronti forse per un primo collegamento dal Palamostre perché vedo già nel monitor di servizio le immagini che ci arrivano da David Zanirato e dalla nostra troupe in attesa di Matteo Salvini. Ecco la finestra, potete vedere anche voi la folla che sta aspettando il segretario della Lega Nord che forse potrebbe definitivamente sciogliere i dubbi in merito al candidato del centrodestra. C'è molta attesa per le sue parole, però vedo che ancora non si sta palesando. C'è già la coltre fitta dei giornalisti e degli opinion leaders e degli influencers, ormai si parla così in termini di social e di web, ma ancora il segretario non si vede. Quindi noi andiamo avanti e poi saremo pronti ad interrompere proprio per dare le informazioni appena ci arriveranno dal microfono di David Zanirato. Andiamo avanti perché c'è una buona notizia per i bambini e per le famiglie perché i bambini da 0 a 6 anni, quindi in età prescolare, potranno liberamente fare attività fisica senza obbligo di un certificato medico. È stato infatti abolito. Sentiamo. Eliminato l'obbligo del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva in età prescolare. D'ora in poi i bambini da 0 a 6 anni potranno dunque liberamente fare un'attività fisica organizzata senza bisogno di documentazione medica, salvo in casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia. La notizia arriva direttamente da Roma grazie a un decreto firmato dai ministri della salute Beatrice Lorenzin e dello sport Luca Lotti. Una decisione accolta favorevolmente anche dai rappresentanti del mondo dello sport e della scuola della nostra regione. Tengo che sicuramente questo decreto sia estremamente positivo per favorire e dunque promuovere lo sport fra i bambini, fra i più piccoli e dunque combattere quello che è il problema della sedentarietà. E naturalmente anche agevolare l'utenza e dunque le famiglie in un dispendio sicuramente economico che prima appunto i certificati medici rappresentavano. Tranquillizziamo le mamme, comunque nessun pericolo per la salute dei più piccoli anche se viene tolto appunto la richiesta del certificato medico? No, ritengo di no. Tra l'altro voglio dire l'attività che viene sviluppata in queste fasce d'età è un'attività ludico-motoria basata sul gioco dove i bambini in qualche modo imparano a conoscere il proprio corpo attraverso il correre, lo strisciare, il rotolare, l'allampicarsi, il lanciare, l'afferrare e per cui voglio dire sono tutte delle attività che normalmente una volta si facevano all'aperto o si facevano in giardino insieme agli amichetti e quant'altro. Subito la linea al Palamostre perché sta arrivando Matteo Salvini, a te Davide. Sì Valentina, siamo qui sull'ingresso del Palamostre, sta per entrare il segretario della Lega Nord davvero tantissima gente, siamo tutti qui in attesa di sentire le sue parole. Aspetta, 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 aspetta. Mercoledì vedo la Berlusconi, il feeling con 5 Stelle rischia di spaccare il centro-netto? No, no, stiamo lavorando perché il Parlamento comincia a lavorare il prima possibile perché gli italiani abbiano un governo che passi delle parole ai fatti. Partiamo dalla coalizione del centro-destra, siamo disposti a ragionare con tutti e confrontarci sul programma con tutti, quindi non sulle presidenze, sui vice segretari, su chi ci aiuta a cancellare la legge pornero, a ridurre le tasse, andare in Europa con la dignità che l'Italia merita, bloccare un'immigrazione clandestina che è in me sta ripartendo, quindi sono disponibile a incontrare tutti partendo dal centro-destra che è la squadra che ha vinto. Ho ascoltato, il mio mestiere è ascoltare e poi fare il possibile perché come è giusto si vinca anche in Friuli Venezia Giulia e si ponga fili alla sciagura Serachiani-Bolzonello, quindi lasciatemi qualche ora di tempo. Lasciatemi qualche ora di tempo, ci stiamo lavorando. Maroni ha detto di stare? Fedriga? Fedriga è uno dei migliori che abbiamo in Lega. Escludete da soli? No, c'è una squadra, si lavora di squadra e si gioca di squadra. Maroni ha detto di lasciare stare i 5 Stelle? Il mio dovere è andare al governo per trasformare infatti quelli che gli italiani hanno approvato come programma e lo farò ascoltando tutti, non escludo nessuno, sarebbe sciocco escludere qualcuno. Ha sentito Berlusconi? Sì. Cosa ha detto? Siamo d'accordo su tutto. Anche su Tondo? No. Mercoledì c'è di grado, Berlusconi? Ve lo dico giovedì. Allora queste le risposte di Matteo Salvini che evidentemente entro oggi non vuole sciogliere le riserve della Lega sul nome di Renzo Tondo, ha detto Osito Berlusconi ma non sono d'accordo con lui sul ex governatore, ha voluto comunque precisare che si lavora di squadra quindi dovrà evidentemente attendere ancora qualche ora per cercare di trovare il bandolo della Matassa. Quindi ancora tutto in sospeso per quel che riguarda la coalizione di centrodestra dopo giorni febbrili di casting e di nomine e contronomine che invece purtroppo non hanno ancora portato a un nome definitivo per lo meno per quel che ci riguarda a Nicola e ancora lavoro. Perché purtroppo? Meglio per noi. Meglio per noi. Purtroppo per gli elettori del centrodestra. Meglio per noi in questo senso. Adesso ritorniamo alla nostra scaletta, ritorniamo a parlare delle notizie di oggi. Oggi è la festa del papà, 19 di marzo. Tanti auguri ai vari papà del mondo. C'è chi sarà coccolato dai figli in famiglia, chi invece affronterà questa ricorrenza da papà separato e chi da neopapà. Oltre 290 i bimbi nati dal 1 gennaio a oggi all'ospedale di Udine. Sentiamo alcune delle interviste raccolte. Con un dolce, una bottiglia di vino o un altro piccolo regalo, ma soprattutto con un messaggio affettuoso. Sono tanti i figli che stanno festeggiando in queste ore il proprio papà. I 293 nati tra il 1 gennaio e questa mattina all'ospedale di Udine, un centinaio in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, hanno garantito già da sé gioia ed emozione. Per la prole che vive distante, invece, una telefonata basta a scaldare il cuore di un padre. Ci hanno fatto gli auguri telefonicamente, siamo lontani dalle nostre residenze normali. Lontani ma vicini col cuore. Lontani, ecco, vicini col cuore, sì. Ho già fatto un messaggio stamattina, infatti mi ha richiamato subito per ringraziarlo, ma avevo intenzione anche di vederlo, quindi è un minimo anche perché prossimo anno sarà anche il mio turno. Facciamo che stasera lo festeggio. Come lo festeggerà? Lo portiamo fuori a mangiare. Ogni giorno per me è la festa del papà. Il mio affetto lo manifesto sempre, tranquillamente. Nonostante i miei siano separati, mio padre è diventato un fratello, ci si è ritrovati, andiamo in giro insieme, facciamo tutto insieme. È la festa del papà ogni giorno. Una decina i padri supportati attualmente, dal punto di vista psicologico e legale, dai referenti udinesi dell'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia. Si tratta prevalentemente di uomini tra i 40 e i 50 anni, alle prese con criticità della sfera affettiva ed economiche. Casi delicati, ma per così dire non emergenziali, come avvenuto in passato. È successo, casi particolarmente gravi, in cui ci siamo trovati con dei papà separati che hanno dovuto vivere per dei mesi presso degli alloggi, dei ricoveri per senza tetto e beneficiare degli aiuti della Caritas. Cosa ci sarebbe più bisogno anche per agevolare un po' la situazione? È difficile trovare delle soluzioni a questo tipo di problemi. Ci troviamo di fronte a tante persone che hanno difficoltà lavorative. Basterebbe che queste persone avessero un lavoro stabile, fondamentalmente. E così purtroppo non è. E adesso parliamo di alcune golosità, Nicola. Passiamo dalle golosità politiche a quelle della tavola, Valentina. Perché? Perché l'ANSA ci informa che il tiramisù è praticamente il deserto ufficiale dei punti Veneta Italy in Italia e in Europa. Il 21 marzo è previsto il tiramisù day con una gara fra Veneto e Friuli per sancire la pace. Chissà se arriverà questa pace sulla contesa per la paternità del celebre dolce diffuso in tutto il mondo. E allora adesso parliamo invece del nostro territorio, parliamo di Butrio. Perché c'è stato recentemente un taglio del nastro per gli ultimi 150 metri della pista ciclabile che collega Camino e il cimitero a Butrio. Un'opera da 70 mila euro molto attesa dalla popolazione. Vediamo. Concluso l'atteso intervento di messa in sicurezza del traffico ciclopedonale in prossimità della rotatoria sulla strada regionale 56 nel comune di Butrio. Un'opera di soli 150 metri ma che permetterà a ragazzi e famiglie di Camino di recarsi a Butrio senza preoccuparsi del traffico che scorre incensantemente lungo la regionale. L'intervento costato circa 70 mila euro, inoltre era indispensabile per rendere funzionale la ciclabile esistente ed è stato possibile grazie ad una convenzione stipulata tra FVG Strade e il comune di Butrio. Siamo molto soddisfatti di poter consegnare quest'opera alla collettività. È un ulteriore intervento sulle ciclabili iniziato dal 1 gennaio 2018 per quanto riguarda Frino e Zia Giulia Strade. Sono partiti, avviati i lavori a Palmanova per quanto riguarda Porta Aquileia con la rotatoria che mette in sicurezza la 352, proseguono i lavori sempre sulla 352 del ponte di Grado. Frino e Zia Giulia Strade ha investito per manutenzioni ordinarie, straordinarie e nuove opere un importo prossimo ai 70 milioni di euro. Un'opera che si inserisce in un'ottica messa a punto dall'amministrazione comunale che mira a trasformare Butrio nella capitale del cicloturismo. Butrio vuole diventare un centro per il turismo slow, turismo slow inteso pedonale e ciclabile. Per cui stiamo molto attenti a quelle che sono le richieste dei nostri cittadini ma anche dei turisti che vengono sul nostro territorio per poter passare delle giornate in tranquillità e in sicurezza sulle nostre strade. Sul palco del Palamostre adesso è salito Massimiliano Fedriga. Un ultimo collegamento con David. Qual è il clima che si respira fra i militanti della Lega? Sì Valentina, lo state vedendo sullo sfondo. Massimiliano Fedriga è sul palco del Palamostre con i tanti militanti leghisti che lo stanno sostenendo. Avete sentito prima nelle dichiarazioni di Salvini dunque che il nodo non è ancora sciolto. Si prenderà probabilmente tutta la nottata il leader della Lega per dirimere la questione sulla candidatura del presidente della regione per il centrodestra. Ora Fedriga sta spiegando, sta ringando la folla parlando di tematiche nazionali. Avete sentito prima nelle dichiarazioni anche il leader Salvini che ha detto che ha sentito anche Berlusconi poco prima di entrare qui al Palamostre. Era tra l'altro al telefono, al cellulare sul ciglio della strada e probabilmente il vertice di Reana potrebbe aver rimesso in gioco qualcuno o qualcosa. Lo sapremo dunque domani oppure tra poco. Vedremo, noi rimanderemo qui a sentire anche l'intervento di Salvini per vedere se aggiungerà qualche particolare in più alle sue dichiarazioni. Allora grazie anche a Francesco Zilli dal Palamostre è tutto. A te la linea. Grazie, grazie Davide per i tuoi collegamenti. Noi adesso lasciamo di nuovo spazio allo sport. Sì, per parlare di una formazione che era altrettanto in difficoltà in casa, il Pordenone che invece è riuscita a tornare alla vittoria, importantissimo è lo successo per la formazione di mister Fabio Rossito che dunque resta in zona playoff e soprattutto prende una bella boccata d'ossigeno per il proseguimento del campionato. Torna a ruggire il Pordenone che ritrova finalmente la vittoria al Bottecchia con una prova attenta e concreta, senza strafare, senza impressionare, ma con grande solidità. Ed è un Pordenone che Rossito voleva, brutto, sporco, ignorante. Parola chiave che i neroverdi hanno trasposto in campo con una prova cinica per la fermana. Non c'è stato nulla da fare con il match indirizzato subito sui binari dei padroni di casa dalla gemma di Salvatore Burrai, destro di rara bellezza, quello che il numero 8 scaglia all'incrocio dei pali con una traiettoria a scendere molto velenosa. Urlo di liberazione dedica al padre che non c'è più alla vigilia della festa del papà. Un gol tanto bello quanto pesante che ha dato fiducia ai friulani abili a trovare il raddoppio poco dopo la mezz'ora con Formiconi in versione Pippo Inzaghi. L'esto è fortunato a deviare il pallone in rete per il gol sicurezza. Un doppio vantaggio mantenuto con quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre, testimoniato dai legni colpiti dalla fermana e da una prestazione monstra del giovane Mazzini. Scelta forte di Rossitto che lo ha preferito a Perilli, reduce da alcune prove rivedibili. Il ragazzo scuola Atalanta ha mostrato qualità indiscusse, sfrontatezza e personalità, doti utili a chiudere la porta più mandate e a blindare. Un successo molto pesante per i ramarri. Seconda vittoria della gestione Rossitto, parte sinistra della classifica ripresa immediatamente con vista playoff, sempre decisamente meglio che doversi guardare le spalle. è viatico perfetto per prepararsi alla gara di mercoledì. Il derby contro la Triestina a Rocco per dare continuità al guizzo casalingo. Dal successo Neroverde contro la fermana alla vittoria della Pugsa che invece si è imposta su Forlì, un'altra vittoria importante sempre per la chiave playoff, questa volta però della palla spicchi, ovviamente grande soddisfazione per coach Lino Lardo e per il presidente Pedone. La GSA continua a far valere la legge del Carnera e compie un altro passo in avanti verso i playoff. L'Uneuro Forlì tiene la testa avanti per tre quarti di gara, ma i bianconeri basta un ultimo quarto da manuale con un super mortellaro, una difesa a versione saracinesca per piegare gli emiliani. In primo tempo a loro gli è andato bene tutto, malgrado un buon impegno difensivo, però hanno segnato 41 punti. E poi insomma, agli spogliatori ci siamo detti questo, poi si vede il secondo tempo come siamo rientrati e poi dicevamo anche che loro chiaramente con la rotazione più corta, senza bonaccini negli esterni, dovevamo nei 40 minuti cercare di stancarli e infatti è successo che nell'arco dei 40 minuti noi alla fine siamo andati avanti. Ritrovata la fiducia con due vittorie consecutive, Udine ora è pronta per la volata finale, con due scontri casalinghi da non sbagliare e le dure trasferte di Treviso, Montegranaro e Trieste. Questo è un campionato bellissimo perché una classifica con nove squadre in otto punti, insomma in quattro partite di differenza, è veramente una cosa, è ancora peggio dell'anno scorso sinceramente, per cui noi badiamo a noi, continuiamo a portare Fiene in cascina, continuiamo a far punti, siamo a 32, adesso cerchiamo di concentrarci sulla trasferta di Treviso che sarà durissima, una Treviso che è andata a vincere a casa di Bologna per cui si presenta come favorita, ma questo non vuol dire nulla, io credo che Treviso l'abbiamo battuto una volta, la possiamo battere alla seconda. È tutto anche per la pagina sportiva di questa sera, vi ricordo l'appuntamento alle 21 con Udinese Tonight, in cui parleremo ovviamente del momento difficile in casa bianconera, provando ad analizzare quello che sarà anche il futuro con la sosta che incombe. Grazie Maurizio, l'informazione ritorna domani mattina con la rassegna stampa, grazie Nicolangeli. Grazie Valentina. E grazie a voi per averci seguito, buona serata a tutti. Grazie a tutti.